Ciao da Nino JFC, come già sicuramente sapete, perché quando uscirà questo video sarà già stato ufficializzato il tutto da parecchie ore, Mattia Perin ha rinnovato con la Juventus fino al 2025. Era uno dei giocatori con il contratto in scadenza al 30 giugno 2022, era uno di quei giocatori nel dubbio, nel senso che sembrava più lontano dalla Juventus per poter fare le sue esperienze, per poter tornare a essere magari il portiere titolare in un altro club, oppure nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, anzi, si vociferava di un possibile accordo, di una possibile permanenza. Cosa che poi è stata ufficializzata, nero su bianco, che in casa nostra ci sta sempre bene, proprio come modo di dire, e quindi Mattia Perin rimarrà calciatore della Juventus, portiere della Juventus, portiere di riserva della Juventus, fino al 2025, con un ingaggio che non è stato reso noto, ma che dovrebbe essere al ribasso. Attualmente percepisce, mi pare, 2,3 milioni di euro netti, e questo ingaggio, insomma, sarà sicuramente spalmato con una cifra sotto i 2 milioni di euro, per però un triennio. È tutto ufficiale, quindi non stiamo parlando di rumor, ma di notizia ufficiale. Vi chiedo di iscrivermi qui sotto cosa ne pensate, perché poi, come spesso dico, il mio canale non è che serve da TG Sportivo, non è che vi devo dare le notizie, tant'è che questo video lo sto registrando nel primo pomeriggio, ma uscirà questa sera, dopo le 19, come ormai da tempo pubblico i miei video, e quindi la notizia di Perin la conoscete già bene, semplicemente scambiamo le nostre opinioni. Quindi ditemi qui sotto se siete contenti, se vi fa piacere, se vi è magari indifferente questa situazione, però più che altro se magari eravate del partito, no, meglio mandar via Perin e prendere un altro, un altro più giovane, oppure un altro che mi piace di più, che può alternarsi con Scesni, oppure se è, secondo voi, la scelta migliore di proseguire con lui. E adesso vi dico anche, ovviamente, che cosa ne penso io. Mi raccomando, anche lasciate like, male non fa insieme al commento. Allora, io sono contento, io vi dico la verità, sono contento perché Mattia Perin è un portiere che mi piace, è un portiere che apprezzavo già da prima della sua esperienza in bianco-nero. C'è stato un momento, quando lui è arrivato alla prima, praticamente, annata, dove c'erano lui e Scesni, che poteva questo essere veramente un duello, i due potevano essere considerati in competizione tra loro per capire se effettivamente c'era da proseguire con il polacco come vero primo portiere della Juventus, oppure se magari Perin, tra l'altro italiano, scuola italiana di portiere, noi della Juventus ne abbiamo avuti tanti e i più grandi, per fortuna, insomma, li abbiamo avuti di portiere italiani, se magari Perin poteva anche scavalcare il polacco e quindi poi cedere quest'ultimo, farci magari cassa, eccetera, e proseguire con Perin. Non si è dimostrato, diciamo così, all'altezza, forse, di poter essere il portiere titolare della Juventus, poi, tante volte, dipende sempre dalle annate, bisognerebbe vederlo un anno intero all'opera per poter giudicare questa cosa qui, ma Perin, dopo, se non sbaglio, un anno e mezzo di prestito che aveva fatto al Genoa, ritornando al Genoa, è ritornato in casa Juve e è rimasto a fare il vice, a questo punto, definito di Cesni. E vi dico, sinceramente, appunto, uno che ha comunque sempre apprezzato Mattia Perin, per me è un secondo portiere di lusso. È un secondo portiere di lusso perché è un portiere che potrebbe benissimo essere titolare in parecchie squadre di Serie A, e non mi riferisco soltanto alle squadre di basso livello, ma nel medio-alto livello di Serie A, senza poi andare oltre, c'è senso perché potrebbe sicuramente fare il portiere di livello anche altrove, però parlando di Serie A potrebbe essere il portiere titolare in varie piazze. Quindi, avere un giocatore del genere come vice, sinceramente, mi fa anche piacere. Oltretutto, gli atteggiamenti di Perin, ora, questa magari può essere una cosa mia, però io faccio caso anche a queste cose qui, quando si inquadra la panchina della Juventus allo stadio, quando si parla di gruppo Juventus, io Perin lo vedo sempre presente. Cioè, nel senso, non lo vedo un estraneo a quello che è il cuore interno della Juventus del gruppo squadra. Questo potrebbe essere per qualcuno un dettaglio insignificante, però secondo me, quando parliamo di giocatori che il campo lo vedono poco e che quindi devono far parte del gruppo, ma che poi attivamente parlando, insomma, giocano poco, è importante che questi quantomeno siano calati all'interno del gruppo e che magari offrano un contributo diverso. Vi ricordate anche i Siparietti Buffon e Pinsoio, per esempio, in panchina, no? Quando è tornato Gigi, lo stesso che era anche Storari, che era un altro, secondo me, secondo di lusso e quando veniva chiamato in causa dava delle belle soddisfazioni. Io Perin lo vedo calato nel mondo Juventus a livello proprio di far gruppo e quindi, ancora di più, mi fa piacere che lui possa proseguire rispetto magari a prendere un altro portiere che magari potrebbe avere anche difficoltà ad ambientarsi nel gruppo da giocatore che gioca poco, perché è un giocatore che gioca le partite di Coppa Italia e qualche turno di Serie A o l'ultima partita del girone di Champions League, se i giochi sono fatti. Quindi, se sei uno inserito nel gruppo, ti va bene, ti gestisci anche così. Se sei uno, magari, che arriva alla Juventus con quell'ambizione di volerne diventare, perché no, il titolare, potresti essere quasi, dico, tramortito da questa situazione qui, come, secondo me, accadde al primo Perin, alla prima era di Perin. Quindi, è un portiere che mi prendo. Secondo me, lui, alla fine, fa la scelta giusta. Non vi so dire se economicamente giusta, nel senso che non so se magari da altre parti poteva guadagnare più o meno un ingaggio simile, però facendo anche il portiere titolare. Però, a pensare, dico, ma alla fine poi in quale squadre poteva andare Perin? Cioè, secondo me, a livello di potenziale, in tantissime squadre, lui ci può star bene. Però, quali sono le squadre che magari hanno da cambiare il portiere e possono affidarsi a lui? Ma parlando di squadre che comunque possono offrire a Mattia Perin un percorso interessante. Cioè, un ritorno al Genoa a lottare per non andare in Serie B. Probabilmente Perin dice, se devo continuare a fare questo nel corso della mia carriera, magari a un certo punto, anche proprio perdendomi completamente, magari diventando il panchinaro in una squadra del genere, preferisco stare alla Juventus, che è un'esperienza di vita. Perché poi per un giocatore stare alla Juventus è anche un'esperienza di vita. Quindi, secondo me, è stata una scelta giusta da ambo le parti. Adesso c'è da capire che cosa succede con gli altri rinnovi. Perché alla fine erano cinque i giocatori, no? Con la scadenza 2022. Dybala è una situazione definita, con lui che non rinnoverà, con la Juventus che non ha proposto il rinnovo. Questa di Perin è stata definita. Ci sono i due che ancora sono nodi da sciogliere, sciogliere, scusate, Bernardeschi e De Sciglio. E anche qui c'è da capire, perché potrebbero essere uno fuori, Bernardeschi e uno che resta De Sciglio. E poi c'è questa situazione quadrato. Perché questa è una situazione un po' più contorta, se vogliamo. Perché in realtà con le 40 presenze, come ci è stato spiegato sul web, con le 40 presenze di questa stagione è scattato il rinnovo automatico al 2023. Però la Juventus sta lavorando per poter proporre a quadrato un rinnovo più lungo, perché il rinnovo che è scattato è di un anno, un rinnovo più lungo con delle cifre però inferiori, come tutti gli altri del resto. Cioè di spalmare queste cifre in più anni, in un biennio o in un triennio. E si sta parlando di questa cosa, io avevo letto insomma poco fa, di una Juventus che ha una proposta per quadrato e che gliela metterà sul piatto per la serie però prendere o lasciare. E viene fuori anche la notizia, l'ha detto Monblano poco fa se non sbaglio, che l'Inter è interessata a quadrato, ha preso un po' di informazioni su quadrato. Io non credo che quadrato possa andare all'Inter sinceramente. puoi mai dire mai, però non ho ben capito questa situazione. Cioè se scatta il rinnovo, questo qui è automatico di un anno, e quadrato decide di esercitarlo, il fatto che l'offerta sia da prendere o lasciare, che cosa significa? Che se lascia quadrato, cioè se rifiuta questa offerta, comunque può rimanere ancora un anno, sicuro, perché ce l'ha da contratto. Quindi è una situazione un po' contorta, però su di lui io penso che si proseguirà con quadrato, che continuerà a vestire il bianconero probabilmente per anche più di un anno, quindi accetterà poi alla fine l'offerta della Juventus, che però bisogna vedere a livello di parametri economici e di ingaggio, se può essere valutata positivamente ovviamente da quadrato. Quindi questo, però due certezze sui rinnovi le abbiamo. Paolo Di Baha non rinnova e Mattia Perin invece ha rinnovato fino al 2025. Ditemi la vostra qui sotto, ci vediamo nei prossimi video e come sempre fino alla fine.